Maionette! 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 Ehi, ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma guardate che le marionette hanno un sonno molto profondo e sono pure un po' sorde! Più voce, più voce! Maionette! 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 Ma Ciao, oggi è una giornadaggia che ci sta compriando per... Ascini, oh! Dimmela, come si fa a chiamare a principessa stellina bella e carina?